La cellula e l'organizzazione dei viventi, parte quarta. Qui parleremo di cellula eucariote e procariote, di specializzazione delle cellule e di tessuti e organi. Cellula eucariote e procariote. La cellula eucariote ha il nucleo ben definito dalla membrana nucleare e sono presenti gli organelli cellulari. Ne vedete un esempio sulla destra. La cellula procariote è molto più semplice di quella eucariote. Non ha la membrana nucleare e non c'è neanche la maggior parte degli organoli cellulari. Ne vedete una sulla destra. In una cellula procariote non c'è il nucleo. Il DNA è immerso nel citoplasma. C'è la membrana cellulare, ve la faccio vedere ora, i ribosomi e a volte una parete cellulare, che è qui, evidenziata in blu, ripassata col blu. Oltre alla parete cellulare può esserci uno strato più spesso e rigido, detto capsula, ed è questa che evidenzia in rosso, più esterna. Sulla parete cellulare di alcuni organismi, i procarioti, può esserci un flagello, che è questa sorta di coda che c'è qui. Il flagello è una struttura allungata per il movimento. Alcuni dei primi organismi apparsi sulla terra sono procarioti, i batteri, larghe azzurre e gli archeobatteri. Li vedete qui. Le differenze tra cellula eucariote e procariote sono riassunte in questa tabella. A me interessa qui evidenziare solamente le differenze, per cui dirò che nella cellula eucariote c'è il nucleo, in quella procariote non c'è. Nella cellula eucariote c'è il reticolo endoplasmatico, in quella procariote non c'è. Nella cellula eucariote ci sono i mitocondri che sono assenti invece nella cellula procariote. La specializzazione delle cellule. Gli organismi unicellulari hanno una sola cellula. Questa cellula svolge tutte le funzioni vitali da sola e per funzioni vitali intendo tutte quelle funzioni degli animali che sono necessarie alla vita. Vediamo qui alcuni organismi unicellulari. Gli organismi pluricellulari hanno molte cellule diverse. Ogni tipo di cellula ha una diversa funzione. Essa è specializzata a compiere una funzione. E qui vediamo cellule diverse tutte dell'uomo, il neurone che è una cellula del sistema nervoso, la cellula dell'epitelio intestinale e quindi dell'intestino, la cellula uovo e lo spermatozoo che sono delle cellule dell'apparato riproduttivo. Le cellule sono anche organizzate. Un organismo pluricellulare è un insieme organizzato di miliardi di cellule. Ogni cellula collabora al funzionamento dell'organismo e riceve ciò che le serve per vivere dall'organismo stesso. Facciamo un esempio che riguarda i vegetali. Vedete il tessuto vegetale, cioè un insieme di cellule. Una sola cellula di foglia è capace di svolgere la fotosintesi clorofiliana ma produce pochissimo zucchero. Servono milioni di cellule per fare una foglia e servono migliaia di foglie per fare un albero. Parliamo ora degli animali. Vediamo sulla destra il tessuto animale. Una sola cellula muscolare da sola produce una forza molto piccola. Milioni di cellule invece, disposte tutte nello stesso verso, si contraggono nel medesimo istante e contrazione è la riduzione dell'estensione dei muscoli. Si rimpiccioliscono, per così dire. La forza di milioni di cellule che si contraggono può far muovere un animale. Tessuti e organi. Molte cellule simili, riunite in un aggregato e organizzate per un compito preciso, formano un tessuto. Nelle piante e negli animali esistono diversi tipi di tessuto. Le cellule che fanno la fotosintesi clorofiliana formano il tessuto clorofiliano. Le vedete sulla sinistra il microscopio e sulla destra in un'immagine. un po' schematica, semplificatrice. Le cellule che trasportano l'acqua dalle radici alle foglie formano il tessuto vascolare. Alla sinistra vedete un'immagine al microscopio e alla destra una schematica. Le cellule che sono specializzate nel rivestimento e nella protezione formano il tessuto epiteliale. Le cellule muscolari formano il tessuto muscolare. Più tessuti formano un organo. Un organo ha una precisa funzione. La foglia è un organo della pianta formato da più tessuti. L'epidermide, il tessuto clorofiliano, i tessuti che trasportano la linfa. Vedete qui un'immagine schematica di una foglia, questa qua superiore e inferiore all'epidermide. Questo qui è il tessuto clorofiliano. Infine abbiamo i vasi che trasportano la linfa.